Oggi è venerdì 19 luglio 2019. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 19 luglio 1943. Da una base aerea degli Stati Uniti in Nord Africa decollano 270 bombardieri pesanti, 170 bombardieri medi e 61 caccia di scorta. Obiettivo Roma. Sulle mappe gli equipaggi hanno evidenziati il Pantheon, chiese e ospedali con la scritta Must not be bombed. Non devono essere bombardati. Nelle intenzioni del comando americano deve essere un bombardamento mirato alle infrastrutture da cui partono rifornimenti alle truppe impegnate a contrastare gli alleati sbarcati in Sicilia nove giorni prima. Gli scali ferroviari, Littorio e San Lorenzo e l'aeroporto di Ciampino. Ma solo una bomba su dieci delle 4.000 sganciate raggiunge l'obiettivo. L'effetto è quello di un bombardamento a tappeto. 3.000 morti, 11.000 feriti, 10.000 case distrutte o inagibili, 40.000 senza tetto. Nel solo quartiere di San Lorenzo si contano la metà dei morti e 4.000 feriti. Lì si reca nel pomeriggio Papa Pio XII con il sostituto segretario di Stato Giovanni Battista Montini, futuro Papa Paolo VI. La limousine del re Vittorio Emanuele III, anche lui in visita, viene presa a sassate dalla gente che gli grida «Vogliamo la pace!». Fino alla liberazione di Roma, il 4 luglio 1944, si susseguono altri 50 bombardamenti. Il duce Benito Mussolini quel giorno è a Feltre, nel bellunese, dove Adolf Hitler lo fa oggetto di un lungo monologo su come contrastare lo sbarco alleato in Sicilia. Il devastante bombardamento di Roma, contro cui una contraerea armata di vecchi pezzi della Prima Guerra Mondiale non può nulla, sebbene inutile sul piano militare, produce un grande effetto politico. Il 25 luglio il Gran Consiglio del Fascismo vota la destituzione di Mussolini. È l'inizio della fine del regime. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile, viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio dell'Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni inviandogli questo minuto di racconto può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata!